Una chiesa piena con le famiglie, i giovani, i bambini, tutti parrocchiani e non solo. A Casa Leone si sta riscoprendo il dono della fede grazie alla missione francescana che terminerà mercoledì e che si svolge anche a sostinenza e venera sul tema Vieni, c'è pronto. Ma l'iniziativa è nuova, da anni e anni non si faceva qui in parrocchia. Mi sembra che sia una disponibilità, un'apertura a mettersi in gioco e ad accogliere quella novità, quella freschezza, quell'annuncio del Vangelo sempre nuovo che i frati, i missionari, le suore stanno per portarci. Ma la missione è un dono di grazia, è un regalo, un'opportunità. Sono cinque giorni straordinari in cui c'è la possibilità di riscoprire la bellezza di essere cristiani, di appartenere a Cristo. È uno straordinario che permette poi di dire grazie per l'ordinario, per il fatto di essere figli di Dio. Significa andare a raccontare e testimoniare che Gesù Cristo è vivo e quest'oggi con il Vangelo bellissimo della risurrezione raccontare quello che San Francesco di Assisi portava in giro per il mondo. Il Signore ti dia pace, questo salute di pace mai vero come in questi giorni. Dopo aver ricevuto il mandato ufficiale da parte del nostro vicario generale Don Roberto i frati hanno dei momenti in cui vanno per invitare, per annunciare a chi, a tutti, tutti sono invitati i giovanissimi, gli adolescenti, i giovani, le coppie sposate, conviventi, divorziati. Dal pranzo a colori all'adorazione eucaristica, dalla pericena alle confessioni, in ogni giornata ci sono state tante iniziative per incontrare le persone d'ogni età, per portare l'annuncio gioioso del Vangelo a vicini e lontani. La gente all'inizio è stupita, come gli increduli del Vangelo di quest'oggi, e poi cosa accade? Accade una cosa bella, che quando incontrano un Dio vicino, vero, umano, si aprono e raccontano le loro profondità. E nella profondità di ogni uomo c'è una cosa bellissima, una grande sete di verità, di bellezza, che si chiama Dio. È un'opportunità, la missione, in cui dare sostanza al fuoco dell'evangelizzazione, in cui stupirci ancora una volta di Gesù e del suo Vangelo.